In calcio all'accordo due firme, Enrico Galvan, sindaco di Borgo, e l'avvocato Ugo Simonetti, proprietario di Castel Telvana. Un momento importante per la comunità, da anni atteso. Una convenzione, quella recentemente sottoscritta nell'antico maniero sul Monte Ciolino, che prevede la valorizzazione turistica di alcune zone del castello. Sei articoli per disciplinare le modalità per l'utilizzo pubblico di alcune aree esterne a destra del maniero, che saranno oggetto da parte dell'ente pubblico di interventi di pulizia, sistemazione a verde, e messa in sicurezza per ospitare attività a carattere culturale, ricreativo e turistico, promosse dal comune o per mezzo di altri soggetti che operano per lo sviluppo turistico del territorio. Prevista anche la sistemazione dei percorsi di accesso. La durata è di cinque anni, rinnovabili per un successivo quinquennio. A Sancire lo storico accordo una stretta di mano a tre, Simone e Ugo Simonetti ed Enrico Galvan. Nuova vita, nuova energia per Castel Telvana. E il prossimo 25 maggio anche l'antico maniero saluterà a modo suo la partenza della tappa del Giro d'Italia.